Un altro gioco di Blizzard che mi piacerebbe tanto provare, che è un'uscita se non sbaglio a giugno, anche se non appartiene alle mie corde di videogiocatore, è Diablo, regà. Ho visto che c'era l'open beta, la closet beta prima, però io non l'ho provato per una questione del studio, che in quel periodo ero impicciato. Effettivamente ci sono poche persone che giocano. Beh, sulla scena italiana non è che ci sono moltissime persone, c'è stato un exploit iniziale che non è stato secondo me sfruttato da parte dei Blizzard, nel senso che c'è stato un periodo in cui Overwatch aveva catturato gli occhi di chiunque praticamente. Non so perché non hanno più messo... non so se si tratta di impegno o di edizione, ma è andata un po' a calare la cosa. Buongiorno Marino. Buongiorno caro, buongiorno. Che si dice? Come ho questo sabato? Come ho iniziato? Mi è iniziato male, come puoi vedere. Ehi, su 1 a 0 ho perso, cioè... Come dice Allegri... È l'ho vista. All'edizione. L'ho vista la partita, l'ho vista. Eh, mannaggia. Eh, vabbè, quella mappa è molto... molto complicata, quella mappa, te lo posso dire. Per esperienza... Eh, l'esperienza gioca da padrone, cavolo. Fa da padrone. Oh, cavolo. Ma c'hanno Zarya, hanno messo questi. Eh, ma sì, ma contro Zarya potrebbe anche farcela, però il problema è che se è molto bustata... Ma io pure smiro da morire, che devo migliorare a sta cosa. Posso smirare a sti livelli. Buonissimo. Ottimo, ottimo. Il tank loro non c'è più. Per ora. Ah, muro di gaccia o no, però? Oh, Kaiser. No! Si mette giù. Buona, buona. Ottimo. Ok, ho pure luce. Oh, oh, oh. Mai, 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 mai. Ok, non c'è più. Prendiamoci tutto, prendiamoci tutto. Ok, carica nostra. No, dai, ecco. No, una shot. No, ho sbagliato. Il campo di immortalità. Ok. Buono. Non ci posso avvicinare troppo a me, che è un cacchio di casino. Eh, sì. Ma io uno. Ah, duplicato Zaira. Un era one shot. Occhio a muovere. Dei game, sì. No, è brutale. Incredibile. Il crimine, no, è brutale. No. Il carico si muove. Monitoriamo il progresso. La barriera non riuscita. Oh, ste cose. Li mettiamo Tincest. E state vicino al campo di immortalità. Oh, quasi l'ultimate. Giro di cure. Scaccio via il male. Ascendo. La barriera si frantò. La mia barriera è andata. Sto ricaricando. Datemi un secondo. Non credo che il carico si sposterà. Vieni Marino che ho l'ultimate. E vieni, che ho l'ultimate. Ok. C'era meglio, non l'avevo vista. All'edizione, come ti sei permessa? Come hai usato? Buongiorno Bruda. Mi sapete sbagliare te? Ah, colazione mudo. Io ho pranzato, però siamo in due linee temporali diversi. Multi breve vi miti. Grande. Cos'è questa campana? Questa melodia? Diamo gli una lezione. Oh. Una botta di salute. Oh, carmatevi. Immortalità? Bravissimo. Aiuto. Eh, niente. Lo so, sentito un attimino tirato. Non riuscivo a scendere. Siamo tentato di andare a Ana, però... Ci stanno le torrette di Simmetra. Cioè, le torrette e i cosi. Vabbè, sì, sono torretta. Oh, è Zaria! Zaria da me ti porterò lontano perché... La situazione si scalda! Si scalda, dici? La situazione. A tutti serve un aiuto ogni... Eh... Lancia. Cacchie le torrette. No, sta... Cioè, stanno a fa' come i mosche. Cioè, stanno a schiacciare. Uh... Troppo. No, guardate quella che culo assurdo. Guardala quell'altra. No, dove... Addio, stede... Uh... Occhio, 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 occhio. No, è possibile. Lo muovo l'ultimate. Oh! Il tank, il tank, il tank, il tank, il tank. Buttatelo giù! Qualcuno butti giù quello. Mai, 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 mai. No, 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 no. Provo a curarti io. No, cacchie, sta succedendo. Simmetra. Oddio, che è questo? Lucio. Lupo Lucio. Ok. Bene. Questa mi è piaciuta, regà. Questa a me è piaciuta. All'ultimo, regà, all'ultimo. Non se l'aspettavo, riuschi. Non se l'aspettavo. Oh, cavolo. Torretta a sinistra. Torretta a sinistra? Ah, ahia. Sono rotta, sono rotta. C'è me qua. Ha fatto il muro, ha fatto. Ma ho messo il muro, i fratelli. Non è buttibile. Ci penso io. Mi sto sopra, che l'incarco. Ok, tanti ho fatto, bene. Occhio che l'orario per bovere l'ultimit. Ah, vero? Oh, c'è Mei. Non l'ho vista proprio, regà. Sosorri, sosorri. In realtà, ma come ha fatto Mei? Mi ha fatto simmetra, però vabbè. Ma ci stanno un po' ammazzando. Ragazzi, all'ultimate. L'avevo detto. Punto, punto. Eh, sto qua io. Vai, 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 vai. Qua si fa. Tengo io, Marino. Mori a sinistra. Mori a sinistra. Mi sono messo il coso, fanno più danni se ti metti qua vicino a me. col carico? Eh, ma... Non c'è nessuno. Eh, no, dico, se dovessi arrivare... Sì. Arriva Reinhardt. Reinhardt può morire. Ok, Reinhardt, fatto, fatto. Si metra pure. Portale, portale, portale. Mei, Mei. Tutti su Mei, tutti su Mei. Mei, 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 Mei. Ok. Punto. Buonissimo. Oh, ma ha ghiacciato. Let's go. Let's go. Ma ha ghiacciato. Non è stato sufficiente per lei. Bene, bene, bene. Eh, questa ce la siamo rischiata? Potevamo finire 1-0 questa, non 3. Eh... Vero? Eh sì. Eh sì. Mi ho giocato bene alla fine. Let's go, let's go, Bruta, let's go. Ma che è Ranked? È proprio Ranked. Prima abbiamo perso 1-0 su quella mappa di Mei, ma dove non si può uscire. Non è King's Row, è quell'altra, Bruta, capito? Qual è? Quella che attaccare è difficile, che devi andarci con sopra Tracer. Come si chiama quella mappa lì? King's Row? Eh sì, no, è un King's Row, scusa, Eichenwald. Sì, quella lì, insomma, Bruta. Avevamo perso quella, stavo in solo Q. E quindi mi sa che sto calato da Blatino 5, con una sconfitta. Non ho controllato, ma temo di sì, temo di sì. No, ma devi fare prima di vincere 5 partite per il Ranked. Ah, c'è ragione. Eh beh, però diciamo calato nel senso... Ma non è detto, eh. Cioè, ma anche se ne perdi uno... È vero, deve fare come cacchio te pare. C'è ragione. Cioè, tu potresti decidere pure in questo momento di farti... di cenare. Non è buttibile. Rennart è fatto. Lucio, Lucio 1. Eh, Bastion a destra. Fatto Bastion. Ok, ha curato il Tank. Moira fatta. E Tank è tornato. Tank è quasi... Dovrebbe morire. Fatto, fatto. Eh, ho focus... Ma ho rischiato a focusare, però, insomma. Occhio, non puoi uscire troppo. No, 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 infatti... Ecco, 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 ecco. Ecco, ecco. Fatto Bastion. Va meglio? Fatto il Tank. Non credo che ce la farei. Oh, non strego. Che stagura. Ecco uno, ecco uno, ecco uno. Massion da me. Fatto Massion. Non pushiamo troppo, però. No, no, infatti... Tocca non rischiarla troppo, sennò. Ok, fatto il Tank. Fatto Echo. E qua a destra c'è Genji che hanno messo. E una shot. Fatto Genji? Vabbè, ma sto Tank, ma che fa? E' meglio andare indietro, che stanno tutti a sinistra. Sto giro stanno tutti là. Reinhardtulta. Ehi, qualcuno mi ha sordito, qualcuno mi ha sordito. Eh, Reinhardt. Eh, Reinhardt. Ma come l'ha fatta a prendere da laggiù? Eh, c'è un raggio assurdo. Anche a me ha preso, ha fatto sbagliato. E il Kriceto dovrebbe andare. Se sbrigasse il Kriceto. Il Kriceto. Kriceto. Ah, io butto il campo di mortalità al mezzo. Eh, sì, 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 vai, vai, vai. No, niente. Niente. Stavano tutti là. Cavolo, avevo fatto una performance incredibile. Cioè, oddio. Ti, solo 14.000? Niente, allora... Eh, allora, niente. 14.000 di cura, Bruda. Guarda qua che roba. Guarda qua che roba. Eh, io ma sto rischiando. No, dobbiamo solo gruppare un attimo. Poi ce la facciamo. Eh, niente, niente. Non posso più giocare con lo stesso approccio di prima. Secondo me dovresti anche cambiare. Che metto? Dai, dai, dai. Ti faccio rischiare a te. Vai, vai, vai. Chirico. Chirico? Mamma, lo rischia proprio, allora. Che hanno loro? Moira. Oh. Pushiamo con la mia ultimate. Ok. No. Eh. Sto martello. Dove sei dove ho un ficco il martello? Reinhardt, hai fatto? No, niente, abbiamo vinto. Non c'è bisogno della mia ultimate. Ok, hai fatto pure Genji? Allora. Eh, per la prossima push sicuramente ulterà il nostro, il nostro criceto, quindi aspetto a ulter. Facciamo con calma. Sì, sì, il doppio di me ha curato, Edo. Sì, sì, mi pensiono insieme ad Ana. E ne, ririti, cara. Oh, ha fatto con Moira, vedi, Moira. Quanta roba. Oh. Niente, il triceto ne sa che muovo. Ah, l'ultimo mezzo salvato, credo, qua. No, avrei ritornato là, giustamente. Sì, sì, gli hai tirato un bel chirico. Un bel suso. Ulta, ulta, via, 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 via. Oh. No. No, dove sta un qualcuno, qualcuno. Dio. No, è arrivato pure quest'altro. Ok. Che macello. L'ho storato questo poveraccio. Che macello, regà, che macello. Madonna. Tanta roba sta partita, tanta roba, però. Sì, bella partita. Oh, Marie. E curano sto cricetino. E il cricerotto. Ulta, eh. Attenzione. Un'altra volta. Ma quanto curta questo? Prima non avevo ultato. Ah, nero, ah, l'ultimo. Ok. E l'ulto pure io, se vuoi. Eh, sì, perché c'ho un gengiglietto, se riesci a darmi una mano. Ah. Dovrei riuscire a ucciderlo, tanto sono Moira. Scarsi. Eccomi, eccomi. È nato. È morto. Ok. No. Dietreggiamo, dietreggiamo. Vieni, 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 vieni. Ne trasportati. Sì, sì. Tritrasportati di me. No, so cura. Oh. No. Valedizione. Valedizione. Abbiamo un attimo in del criceto, quasi. Adizione. Eh, niente. Moira mi ha pushato a me. Che palle, cacchio. Niente. Vabbè. Dovrebbe cambiare il tank. E infatti ha cambiato. Questo. Ecco la cura. Ora mi sento meglio. Grazie. Adesso cambia anch'io. No, dai, come ha fatto? Mi son curato. Dovrebbe morire, ecco. Ma come ha fatto? Ah, qualcuno mi ha avvelenato. Dai. No, è finita finché non è finita. Sottomettiti al mio volere. Renditi al mio volere. Circuiti adattivi attivati. No, no. Zarya. Entrate nel campo. No, eh. Ecco è diventata Zyra. Ok. Ok. Allora. Vai, sti 30 secondi più lunghi della vita. Dai 20, 19, 18. Sbrigati 17, 16, 15. Ce la fanno, ce la fanno. Ok, buttata, la buttata. Calma, calma, calma. Moriranno al fade. Non ce la fanno a toccare. Ben vinto. Let's go, Ski. Mamma mia, 38-10. Come rapporto con 28 assist. Molto bene. 11.000 di cure che per Marinowski è un evento, anche se non è record. Ma 21.000 di cure per il nostro Edo con Moira. E 41 kill. E soltanto 4 morti. Attenzione. Però Mei si prende. L'azione della partita. Vediamoli insieme. Ma che è la Mei avversaria? Non mi vedete, prego. Eh sì, proprio la Mei avversaria. C'è Marinowski lì tra i caduti. Ai ai ai. E mi sa pure il buon Edo. Eh sì. Ai ai ai. Però l'importante è essere riusciti a portarcela a casa. Molto bene, regà. Molto bene. La Blizzard Award è tutto. Let's go, Ski. Let's go. Sì, è così. Sì, è così. Sì. Grazie a tutti.